Bene, siamo qui con Anna D'Auria, MCE, siamo a Roma 3, è la vigilia della discussione di un emendamento domani in Senato, un emendamento che riguarda la valutazione nella scuola primaria, in particolare l'introduzione del voto sintetico, e che, insomma, D'Auria, c'è stato qualche passo avanti rispetto a qualche tempo fa, nel senso che il Ministro ha detto che comunque verrà in qualche modo integrato rispetto all'attuale situazione. Voi però continuate ad essere fortemente contrari, per quale motivo? Beh, continuiamo ad essere contrari perché intanto praticamente l'impianto ha una sua coerenza interna, l'impianto dell'ordinanza ministeriale 172 ha una sua coerenza nelle modalità di valutazione periodica e finale. È ovvio che già dire che un apprendimento in via di acquisizione è completamente diverso dal dire se è sufficiente, buono o ottimo. Quindi è in una logica di osservazione di quelli che sono gli sviluppi dell'apprendimento, ma sempre in chiave di dare valore all'apprendimento e di dare valore alla crescita del bambino e della bambina. Qui parliamo di bambini e bambina, ma vale anche per i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo e secondo grado, per i quali ancora purtroppo c'è il voto. Quindi voi vi opponete sostanzialmente a questa logica del voto che va a, come dire, in qualche modo primeggiare e a, insomma, un ritorno all'antico perché verrebbe a essere troppo veramente prevalente rispetto a una valutazione complessiva e soprattutto agli obiettivi. Sì, cioè, in pratica quello che ha fatto l'ordinanza 172 dopo l'abolizione dei voti è reinserire elementi per sviluppare una nuova cultura della valutazione. È ovvio che già se studiamo alle parole che sono i livelli della 172 il giudizio sintetico cambia tutto. Per noi è importante che la valutazione si faccia in riferimento agli obiettivi di apprendimento, che ci sia un'attenzione alle evidenze di apprendimento. Queste sono legate alla dimensione di sviluppo degli apprendimenti, così come vengono ennucleate dalla 172 alle quali corrispondono ai livelli e, tra l'altro, dando la possibilità di prevedere nella scheda di valutazione tanto degli spazi per l'autovalutazione di bambini e di bambine, che è una pratica fondamentale per lo sviluppo di capacità metacognitive e di un giudizio descrittivo ampio, ampiato. L'ultimissima, veramente poi la lasciamo. Qualora passasse l'avendamento voi continuerete la vostra battaglia? Ma noi, la nostra battaglia in primis non è la battaglia legata alla formazione. Quindi noi, il nostro lavoro per una valutazione formativa, così come facevamo già prima in presenza dei voti, continueremo a farlo. Certo, è vero che le modalità di valutazione, quindi quanto previsto della norma, ha un suo effetto, retroagisce anche sulla visione che gli insegnanti si formano. Ma noi continueremo a lavorare accanto agli insegnanti, dentro le scuole, con i nostri percorsi formativi, per una valutazione formativa in itinere che poi, purtroppo, se passerà il disegno di legge del voto in condotta in cui è inserito l'introduzione dei giudizi sintetici, ci vedremo poi l'ordinanza che cosa prevederà, ci costringerà a fare anche degli sforzi maggiori, ci farà perdere tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, gli insegnanti soprattutto hanno fatto in questi tre anni. Grazie.